Siete pronti? Posciamo andare? Mamma mia che voglia che ci avete ragazzi Siamo pronti? Sì signor capitano Consolato di giorno Allora andiamo giù la prima volta No andiamo in garage Allora prendimi tutti che prenderei io E tu che si son passa prendi sta cazzo di mira Eh qualcuno mi si è muto E come disse in quel caso Come disse in quel caso Giagal disse speriamo di avermi Andiamo qua Fasaride lei Non era una battuta Tanto si c'è Jager C'è Mewter Sono già partiti C'è qualcuno sopra Chi è sopra che corno? Kratos Natsuki sta cercando di fare spawn kill Ci abbiamo già andato avanti C'è neanche un altro C'è neanche un altro buck In bagno? Occo 2 da dietro dietro Che fuse dietro è occhio Mi interrogo Ma Cristo Mi ha ucciso Chi è che ha chiuso la porta? Anche Kratos ne ha uno dietro C'è a destra sicura Buona Franci Eh Kratos sinistra Bravo 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 Non ci sono altri Vedi che voglio dire le più 11 Vedrà aperto questo qui francese Da quanto pare si è Mi è morto accanto e rimasto in vita Vai vai Intanto sei un attimo cosa sta facendo gratis Ce l'hai qui a sinistra Ma non ho capito se sta scendendo Sì E dalla porta quella dietro Franci Non dalle scale lì Vabbè io me lo fanno Fallo fare a noi il controllo delle tre camere Kratos Perché ti senti quando cambi da armata le camera Controllo un secondo delle tre camere Che sento passi L'ha visto l'ha visto l'ha visto Sta davanti a Francesco Sulle scale quelle Deffuse Sta sopra Occhio che ho la rush Sta sopra Sta sopra Non è corso sopra Prende queste scale qua Kratos Occhio Rimangono 5 secondi Bravo bravo Ah no è rientro nella Bella Bella Stavo detto Ci hai messo dalle scale No non c'erano queste scale No no Era salito Stava correndo dall'altra parte calcolo Va bene va bene Non è che Sì no non ti incazzare infatti Toccavo Non sto scherzando Sentite se qualcuno prende toucher Mi prendo di mano Io direi che mo ci si mettono loro Secondo me vanno archivi Vabbè prendanzi tutti Vabbè ragazzi non so Sono sopra questi ragazzi Ah sono qua Sono qua aspetta Sopra 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 Ma voglio non morire facile Io ragazzi salgo da qua Occhio allo spawn kill Stiamo fuori Vabbè Boom Non so chi era che stava E' uno nell'entrata lì Dove mi sta pieno Non so la salve Non c'è la piena Attendo Ok cazzo Ehi Attendo l'ordo Perché dov'è? Eh già era l'attendo da qualche parte Acchio c4 Libero Esperimento Mi sto aprendo una finestra in fondo Esperimento dove è dentro l'adottivo? Porca troia Eh dove è adesso tutto l'individuo eh Vabbè questi sono presi Esperimento dove è dentro l'adottivo? Sì ma dove sta mirando Kratos? Kratos Io non so come si chiamano le stanze No ma l'ha tirato su caveira Adesso è morto Bene Ti giuro non l'ho visto Ricarico arma Grazie Oh oh scusa Ci sto adesso L'ultimo nemico rimatto Eh c'è anche Bendy Il Bendy No no sono Bendy Prendete il contenitore di Bionic All'idea finita Rincolente Bella Difensori eliminati Messione d'attacco Non ho parlato per niente Ero troppo concentrato Scusate Ah sotto l'abbiamo Vinta Quindi Mi voglio divertire Hai in archivi? Sì mi voglio divertire Andiamo in archivi Arrivo mio i Prodi Protettete il contenitore di Bionic A tutti i costi Ecco No Qual ha fatto morire? Proda spanghillare Tutti stavano a seconda col drone Eh sì Io li sento sopra regà Stanno rompendo il bottle in corridoia Lui si dà sopra regà No Dai c'era cammina Siamo in capito davanti No Siamo in qua Accendo l'orde Sopra di te C'è se legge Sì l'avevo L'avevo Adesso lo vedi No Capita Guarda 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 No Non è stando forte Assecco Però Regà un secondo Porco Mi caccia da davanti L'operatore alleato rimasto Ma porca puttana Mirabbanata Stato bravo E' stato proprio lui Il nemico sta difendendo Il contenitore di Bionic Allora ancora non sono entrati lì Simo Quando io Prendete in pace Veneci termine L'hanno sotto Faccio il drift tra le macchine Ma che è stato il drone? Ma che è stato il drone? La star di infame Per te solo è l'ame Senti al mira che ci sta per rompere Tra tre e due Una bomba Rotta il mira Ma che quel toucher dov'è? Non serve Non serve Ehm... Steso Disattivo l'elettronica Luce spetta Sta per esplodere Creiamo una nuova Orca troia Sono sopra Cerca veira che mira Ehm... Che è la scusa Volevi a bastarda infame Volevi a bastarda infame Non capisco dove stai che non ci penso Volevi a stare là La la Raga io sto sotto Dentro e da dietro Attività nemica Neutralizzate la minaccia Ok Dammi Dammi Aiuto Dove sei te? Ok Bella Ho fatto fuori tre droni Mi do un'occhiata alle telecamere Ho sentito rompere qualcosa Dove? Ehm... Praticamente alle scale di dove è Noi mai nella scatata Era in ufficio Viste iniziano A me sono anche le enormi sali Viste iniziano Viste iniziano Viste iniziano Viste iniziano Regali faccio il giro da garage No no Mettila Sta pure uno là dentro Ecco Intervallo Vai Viamogli una lezione Bravi Ok Che bella ragazzi No Era fuori Chi era la cavera? C'era lì La garage fuori E' una e qua Ma aspetta Eh cazzo Tanto sto guardando di l'ingresso C'è un venti secondi Vedo Bella Vi è potente Ci è Oh abbiamo vinto Abbiamo vinto Scusa L'attiramenti Comunque Ma no no La cavera Sembra molto Stituto Anche questo video è terminato ragazzi Iscrivetevi al canale E cliccate sulla campanellina Così vi arriveranno le notifiche Ogni volta che caricherò un video O sarà in live Cercateci anche sui vari social Con Nick Bavareallord29 E Alevalu E se volete giocare con me Sapete già chi cercare E se volete Ti girare al canale Sempre è in live E se volete A presto